No, il narratore, maestro narratore, ed ecco che arriva il folletto pittore, ed ecco che arriva il folletto pittore che dipinge tanti puntini bianchi sui cappelli dei polcini. Rileggilo un po' tutto, ed ecco che arriva il folletto pittore che dipinge tanti puntini bianchi sui cappelli, ed ecco che arriva il folletto pittore.